di nostra iniziativa dice ma chi te l'ha detto di fare quella beneficenza a quella persona o a quell'altra persona noi abbiamo chi ci aiuta perché sono associazioni non profit e organizzano questa raccolta di fondi che poi verrà donata veramente a delle persone che ne hanno bisogno grazie di cuore a tutti ringrazio tutte le amministrazioni che sono state qua presenti questa sera tutti i volontari che non si diano mai indietro al nostro appello eh sì il volontariato è importantissimo un ringraziamento a chi è stato tanto vicino a mia moglie in questi giorni a Nina, a Bruno che tutte le sere noi andiamo a scocciare Bruno, Nina state con noi sopportateci il sindaco di Capistrello e gli altri sindaci io dimenticherò certamente tante persone però siete nei nostri cuori e la croce rossa a tutti i volontariato ringrazio ringrazio Gesù che mi dà questa forza ringrazio mio figlio che ci dà la forza per continuare oggi è il suo compleanno oggi è il suo compleanno e sono 29 anni grazie a tutti Capistrello voi siete la nostra linfa grazie, grazie, grazie